ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi ed eccoci qua con un altro episodio dei vostri video le vostre collezioni di orologi simpaticamente presentati uno dietro l'altro abbiamo quattro video oggi e per i quali poi vedremo un po cosa ci sarà da dire noi ci divertiamo sempre a spulciare tra i vostri collezioni nei vostri cassetti praticamente vediamo in casa vostra a guardare a fare del voyeurismo del sano voyeurismo in questo caso per vedere cosa scegliete cosa vi piace e anche magari quali sono le scelte della vita che vi portano a decidere di comprare orologi scrausi a volte c'è anche questa sempre interessante capire del perché del percuma comunque dai come partecipare lo sapete video in orizzontale mi raccomando come c'è scritto qua sotto orologio del giorno simpaticissimo oris big crown pointer date versione mare nostrum quadrante blu cassa completamente in bronzo cinturino custom questo qua non è cinturino originale questo qua è quello che mi ha fatto un amico john kustrap è in squalo squalo blu con le impunture che prendono che riprendono il bronzo della cassa simpaticissimo me l'ha rivitalizzato mi piace tantissimo questa versione così è ora non mi ricordo nemmeno che il cinturino originale com'è anzi c'è una scatola come spesso succede ciò le scatole originali piene di cinturini di bracciale di scorta che quelle che arrivavano con due tre e non ricambio mai cioè un giorno mi devo mettere lì aprire le scatole guardare cosa c'è dentro perché non me lo ricordo più ad esempio spirit ne ha ben due di cinturini di ricambio originari no già nella confezione vabbè dai un giorno ci metteremo lì altrimenti poi fra 30 40 50 anni qualcuno aprirà la scatola troverà ancora cinturino originale del longin piazzato lì vabbè dai peggio per me vuol dire che non ci sarò più è dito affocato barra spaziatrice pronta a ricevere i colpi del destino e che il destino abbia inizio ciao davide sono già voglio ti faccio a dire la provincia di monza ti faccio i classici complimenti per il canale per i tuoi grazie hai fatto venire la passione mi ha fatto conoscere l'orogeria meccanica per me che per me era sconosciuta del però malo shoot anche se come accessorio l'orologio in sé per sé mi è sempre piaciuto beh comunque dai da novembre del 2022 che ho visto il tuo primo video ti farò vedere quello che ha acquistato poi ti farò vedere qualche regalo un alletto da l'orologio che ho comprato precedentemente al 2022 al novembre il primo orologio è il classico provosti sempre master automatico simpatico da aver certificato un orologio a mio avviso stupendo perfetto per quello che serve a me io lo uso al lavoro ci vado a mare e se sempre comportato bene sia scarta quei più 14 al giorno però è un bellissimo orologio nulla da dire ma certo poi dopo questo subito dopo ho acquistato un comandischi e l'ho preso in un mercatino pochi euro ci ho messo questo nato e niente e l'ho lucidato perché il vetro vabbè plastic plexi è facilmente lucidabile l'ho preso per pochi euro e fa quello che che deve fare non li non sto neanche più a cambiare di datare perché è un casino fai su fai su dopo ho acquistato questo mido baroncelli mido baroncelli con powermatico 80 classico movimento molto preciso molto carino e è un 38 millimetri non mi fa impazzire io ho cambiato il cinturino perché il suo se praticamente distrutto non so perché all'interno si è distrutto comunque ma come c'è e nemmeno un anno ti si è distrutto perché detto novembre novembre 22 ma l'hai preso usato magari aveva già i suoi annetti sulle spalle non lo so non mi hai dato saperlo non lo specifici un anno si è distrutto il cinturino mamma mia è molto preciso molto elegante lo uso sotto una camicia sotto un abito e niente niente successivamente ho comprato questo seiko speed timer solare cronografo speed timer solare appena uscito me ne sono innamorato l'ho voluto acquistare e sobraccia all'originale tutto perfetto sì comodo gli ho acquistato pure un cinturino in cuoio nero con impunture bianche stile racing per cambiargli faccia ogni tanto comunque un bello orologio bello dai vabbè un quarzo è preciso quindi ebbè ci mancherebbe altro successivamente dopo aver visto il tuo video ho acquistato il seigal 1963 da 38 mm si funziona ancora sono dei pochi fortunati o ne dei tanti fortunati comunque pure molto preciso come movimento elegante ci ho cambiato il cinturino perché il suo faceva proprio schifo pietà ci ho messo questo in pelle marrone con le impunture stile vintage comunque molto bello molto bello la porca figura certo molto poi così non sapendo cosa acquistare acquistando una tuta blu ho detto mi serve l'orologio blu sai no noi abbiamo bisogno sempre di una scusa per acquistare un orologio ho preso questo orient re 2 se non mi sbaglio si un orologio che non ha bisogno di presentazioni ci ho messo un cinturino nato perché il suo cinturino in gomma non mi piace molto ingombrante molto preciso devo dire la verità mi mi scarta mi fa o meno uno al giorno a volte pure di meno comunque come a volte pure di molto bello c'è degli effetti solelli anche se un entry level certo molto molto bello molto bello mi piace bene o male poi ho acquistato un orologio doppione diciamo mi è sempre piaciuto questo qua il full loom e ho preferito acquistare altro però poi quando ho avuto l'occasione sono andato in una geleria in basilicata in forte sconto l'ho acquistato con cinturino in gomma ci ho messo il cinturino nato però ripeto come per il promaster nero anche il cinturino in acciaio che ogni tanto ci fa faccia i cambi e quant'altro devo dirti una cosa su questo secondo me c'è un problema di leggibilità di notte specialmente quando la pasta luminescente non è molto carica il quadrante si vede si illumina quasi a giorno però il problema sulle lancette secondo me hanno i bordi troppo sottili i bordi neri troppo sottili quindi non vanno a contrastare tanto col quadrante quindi di notte li preferisco come leggibilità magari quando sono di notte che devo vedere l'orario preferisco lui si in effetti è vero potevano fare per differenza no se il quadrante full lume cioè tutto illuminato allora le lancette me le fai senza luminescenza me le fai nere oppure come dici te con un bordo addirittura è successo avrei visto in un video precedente a questo tempo fa che c'è stato un amico del canale che si è dipinto le lancette di nero così ha tolto l'acqua dal vino l'olio dal vino come sul dire l'acqua sul fuoco insomma ha fatto ha risolto il problema ma le ha dipinte di nero e così si vedono sì secondo me è concettualmente sbagliato farle full lume con il quadrante full lume cari da meno l'impressione da meno l'impressione di essere luminoso però è più facile a leggere si distinguono meglio le lancette penso di sì bellissimo pure questo penso di sì e poi 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 questi sono finiti i miei orologi ora ti faccio vedere due regali di matrimonio fatto il testimone mio fratello mi ha regalato questo minchia mio fratello non è molto diciamo avvezzo ad informarsi sull'orologgeria però si vede amene un regalo lo tengo anche se non lo anche sto sector qua praticamente è un finto cronografo perché nei tre sottocontatori lì cosa c'è a data che va al 31 il giorno del il giorno della settimana lì ad ore tre praticamente i pulsantini di qua è per far la figura da cronografo poi all'interno è tutt'altro capito era un accrocchio di ciofeca crocchio proprio concettualmente quasi una presa in giro ma perché fate queste cose sector l'avrò messo due volte per far felice mio fratello mi mi piace però non lo metto ti capisco poi questo invece l'anno successivo ho fatto il testimone di nozzo mio carissimo amico mi ha regalato questo sito ecodrive stile pilot una vietor credo molto grosso e io un polso piccolissimo quindi pure questo lo metto raramente ma a suo perché dai a suo perché lo metto di più del sector se ci vuoi poco mio padre così aveva questo sector anni 90 e l'aveva in un cassetto perché gli era caduto si era rotto l'ho preso perché mi dispiaceva vederlo la ora la ghiera gli ho dato una lucidatina e forse ho esagerato sono venuti via i numeri però ho trovato un orologiaio che dovrebbe avere pezzi di ricambio che culo il vetro e la corona credo che gliela cambio perché non è molto è bello pure un movimento particolare non è il solito quarto c'è i decimi di secondo molto preciso c'è un sistema di regolazione particolare che girando la ghiera le le lancette girano in base a corono forte si gira la ghiera molto c'è fatto confusione hai lucidato la corona sopra hai detto prima che quali è la ghiera la lunetta e poi giri la giri la ghiera e si gira è la corona quella che giri hai fatto una confusione della madonna i termini la base dei termini interessante poi questo qua questo non ti piace però una storia molto particolare un timex expedition e un computer molto grande io ho un trascorso nell'esercito è questo porta con sé dei ricordi particolari sono stato in afghanistan lui è stato con me per tutta la preparazione alla missione per un anno e mezzo e con me porta tanti ricordi brutti perso un collega tra l'altro ho subito pure io dei dei danni lievi però io ho subito pure io sono rientrato sono stato riempatriato lui niente sta con me e mi ricorda quel periodo la un ottimo orologio però ha un sacco di funzioni bussola altimetro barometro previsione del tempo termometro e un tool watch ora la domanda più che la domanda ti dico come andrà a finire la mia collezione io avevo pure un seiko alpinist che ho acquistato dopo questo dopo aver acquistato questo seiko alpinist l'ho venduto mio collega che se ne è innamorato poi io ho intenzione di fare diciamo il passo in avanti lo step successivo ho venduto il seiko alpinist credo che venderò pure questo anche se mi piace tanto e venderò il mido per acquistare diciamo l'orologio da mettere tutti i giorni volevo un orologio più serio da mettere tutti i giorni avevo pensato all'oncino idroconquest da 39 tu cosa ne pensi secondo te ha senso cioè io vorrei fare questo passo però d'altro canto mi dispiace quando ho dato il seiko alpinist come se è andato via con me un pezzo di cuore però vorrei fare lo step successivo dammi una tua opinione e tipo la domanda è ne vendo tre ci metto qualcosina e ne acquisto uno più di valore superiore solo questo e cosa ne pensi della mia collezione ti faccio di nuovo i complimenti per il canale continuo così anche se non sono io a dovertelo dire ciao a tutti ciao ciao ti voglio bene addirittura love 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 sì secondo me sì senza ombra di dubbio vendine tre e compra l'oncino idroconquest è quello che faccio anch'io che io suggerisco di fare a chiunque abbia tanti orologi a un certo punto ne vendi tre e passi a quello successivo no lo scalino sopra perché se no se continui a comprare orient secco 5 e così ti riempi tutti quegli orologi lì e non conoscerai mai quelli sopra è chiaro che ti dispiace darli via anche a me dispiace darli via però poi vedrai che subito è ti con l'idroconquest ti troverai bene vedrai che diventerà quello il tuo orologio preferito no se poi non lo diventa se si prende tempo a darlo via e prendere qualcos'altro però è così che bisognerebbe ragionare andare avanti no venderne tre e uno poi ne compri un altro poi dopo ne rivendi due e ci metti qualcosa e un altro è così salire un pochino poi nulla vieta come faccio anch'io spesso di tornare completamente indietro a comprarti un orologio da 200 euro solo perché ti piace lo vuoi provare lo vuoi usare al mare no come faccio io ho fatto io col promaster no dopo essere arrivato a orologi da 3 4 mila 5 mila ogni tanto me ne becco uno da anche da 2 300 mi piacciono mi piacciono mi piacciono e la collezione quindi è così al momento è un pochino in bilico diciamo però con l'idroconquest ti svolta la giornata poi volevo fare volevo mostrarti la mia gratitudine perché in america usa farlo no è proprio usato in Italia non usa e secondo me sarebbe bene ora di prendere anche questa buona abitudine di mostrare gratitudine a chi ha servito la nazione all'estero nell'esercito nell'aviazione insomma nelle forze armate è stato in Afghanistan l'amico gratitudine per aver rappresentato la nazione all'estero prossimo video ciao Davide sono Massimo da Ferrara e sono qui con mio figlio Mattia di 11 anni ciao Davide ciao Mattia il secondo video che ti mandiamo nel primo ti avevo presentato questo Zenith super sub arancio ricordo e adesso ti faccio vedere il resto della collezione parto con questo Brightling Chronomat con un quadrante bianco cavalieri in oro molto bello l'unico problema è la leggibilità che ovviamente pecca un po' però è anche molto elegante in questa configurazione infatti è l'unico orologio che mi ruba un po' ogni tanto anche la mamma di Mattia poi ti passo con il secondo orologio che è sempre un Chronomat più bello 1970 questo è secondo me bellissimo con il bracciale detto a cartucera con il bracciale e poi il quadrante nero è più bello blu è più bello ancora blu acciaio e ora mi piace da morire questo qua è bello con il suo bracciale a cartucera come dici te che è anche più facile cartucera no è più difficile invece cartucera è più semplice bello proprio promosso questo Brightling qua i contattori color champagne e il quadrante nero questo è molto più leggibile lo porto molto volentieri perché a me è uno degli orologi che piace di più in assoluto poi vado avanti con Tudor Black Bay 8 questo è un orologio che mi dà grandissima soddisfazione perché è comodissimo al polso veramente proprio molto comodo e è precisissimo tiene il tempo in maniera perfetta è il costo veramente soddisfatto di questo acquisto c'è scritto è il costo poi vado avanti con Omega Speedmaster il primo orologio che io ho acquistato quindi sono molto affezionato un orologio fantastico mi perdo delle ore a guardarlo e mi dà sempre delle grandi emozioni per la storia che ha comunque non c'è niente da dire di particolare di questo orologio niente passo all'ultimo cos'è 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 Rolex il Submariner gonfia il perché è senza data secondo me si avvicina ovviamente all'originale i primi io lo preferisco senza data un orologio che porto molto ovviamente niente da dire funziona benissimo e io gli orologi li porto tutti in rotazione per cui non li tengo in cassa da muffire ma li uso tutti questo è uno dei miei preferiti e adesso ti passo mio figlio Mattino ciao Davide ti volevo far vedere come mi sta al polso il nuovo Citizen siccome la scorsa volta ti avevo detto che mi era un po' grande e inoltre ti volevo far vedere il mio nuovo acchiatto vai è questo 6,5 scolto e lo stesso problema della scorsa volta infatti a me il bracciale non sta dunque l'ho sostituito con questo cinturino in silicone bravo inoltre chicca per l'estate e ho comprato anche sempre in silicone questo cinturino arancio che va a riprendere il colore dei quadrati bravo cavoli ovviamente anche per il Citizen ho voluto prendere un altro cinturino per metterlo d'estate giallo ed è questo sempre in silicone giallo eh sì benissimo grazie mille per lo spazio che ci hai dedicato grazie a voi facciamo un grande saluto sia da Massimo che da Mattia bravi ciao Davide ciao ciao ragazzi grazie Mattia per avermi fatto vedere come ti sta al polso il Promaster Marine che prima o poi lo comprerò anch'io dai è inutile dire per quest'estate mi ci vuole questa nuova versione del Promaster mi sa che lo chiapperò aspettiamo ancora un paio di mesi poi ci siamo dai hai visto che bisogna anche il cinturino giallo per il Promaster no quella lì è roba da grandi il cinturino giallo è roba da grandi fai bene bravo così spacchi d'estate col giallo e l'arancione lì spacchi sicuramente bravo anche il babbo c'è da video orologia però non è per dire ma insomma Rolex Omega e Brightling eh insomma dai papà te la stai cavando abbastanza bene diciamo così eh vedo che lo Speedmaster ti perdi a guardarlo io sono sempre titubante sono lì ce l'ho lo tengo per l'amor del cielo però non è che mi convince al 100% speriamo che mi maturi un po' questa chiorbetta qua e mi scatti la molla di innamorarmi al 100% speriamo vediamo dai prossimo video ciao Davide ciao sono Marco di Genova e ti mostro la mia piccola collezione di orologi entry level ho iniziato da circa due anni seguendo in parte anche i tuoi consigli meno male iniziamo con qualche vintage questo è un long jean bello in oro piccoli secondi credo intorno che sia degli anni 50 basta aprirlo era l'orologio di mio nonno mi è stato lasciato appunto in eredità io mi domando ma non siete curiosi no quando avete un orologio credo che sia degli anni 50 hai detto non siete curiosi di vedere dentro cosa c'è ora capisco bene un orologio con un fondello a vite no andarci intorno svettarlo magari ci vuole le attrezzi lo rovini ma questo qua farlo aprire o aprirlo da soli un attimo perché a scatto cioè a pressione potresti farlo da solo se hai paura vai dall'orologiaio cosa vuoi che ti prendi 5 euro me lo apri che voglio fare le foto te lo apri ti fai le foto al fondello le foto al calibro trum 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 lo richiudi per favore trum tieni 5 euro per il disturbo e così hai le foto all'interno di questo orologio qua e puoi risalire anche all'anno perché dal seriale sono le tabelle anche sul mio sito puoi risalire all'anno quindi invece di dire credo sia degli anni 50 sai perfettamente o insomma con una certa lasso di tempo di che anno è funziona molto molto bene e lo conservo gelosamente bravo passiamo poi a questo Omega Seamaster Quarzo anni 80 un orologio molto raro che credo di non avere mai visto su questo canale è un orologio che non amo particolarmente come linea ma invece è vero in quanto regalo della comunione conservo nella mia collezione a me piace come forma sì sì passiamo poi a un altro quarzo un quarzo Tissot PRS200 un buon orologio utilizzato come everyday watch per alcuni anni difatti si noteranno i graffi sulla lunetta e gli airliner sul bracciale certo naturalmente la batteria è stata rimossa per evitare bravo spiacevoli danni infingarda infingarda passiamo adesso a qualche automatico questo è un vostro canfibia senza data senza data bravo di vostro che non hanno la rimessa rapida della data per cui ho ritenuto molto più comodo avere un orologio senza l'indicazione della data questo orologio l'ho utilizzato per oltre un anno per immersioni per andare al mare e presenta un piccolo difetto nel canotto della corona di carica ho letto su alcuni forum che è un difetto abbastanza frequente dovuto alla bassa qualità dell'acciaio impiegato cioè mi stai dicendo non ho mai spiegato qual è il difetto presumo sia la ruggine quel poco di ruggine come già era capitato a un amico che aveva presentato un vostro come peraltro ci sono altri che confermano questa cosa qua altri a cui non è mai successo niente probabilmente chi è esperto di orologi russi magari ci potrà aiutare probabilmente hanno cambiato nel tempo il tipo di acciaio o il canotto stesso l'hanno migliorato perché molti dicono a me non mi è mai successo niente l'ho sempre porto al mare non è successo niente molti invece presentano un punto di ruggine quindi dipende un po' dalle annate forse non lo so comunque tuttora funzionante e lo conservo lo conservo bravo passiamo poi a questo orient triton a reserve bello questo qua un orologio molto bello molto bello mi piace molto ce l'ho da circa due anni un orologio non per tutti in quanto ha un lug to lug di 52 53 mm e la cassa è una 43 mm è un orologio grosso un orologio fatto regolare da un orologio professionista e che ha uno scarto di circa due secondi al giorno quindi veramente un ottimo movimento ottimo fai su passiamo all'altro orient questo è un kamasu bello verde petrolio visto molte volte sul canale a cui ho messo un cinturino jubilee milta questo è il mio everyday watch diciamo per tutti i giorni anche questo fatto regolare da un orologiaio è uno scarto di 5 secondi al giorno credo si è proprio fissato con lo scarto giornaliero perché ogni orologio che compri lo fai regolare fermi tutti senza saperne leggere né scrivere orologiaio lo regola che ci vuole niente la racchetta lo chiude 5 secondi 2 secondi non ci dici da quanto tempo l'hai fatto regolare giusto per valutare quanto reggerà questa regolazione nel tempo perché non essendo calibri sopraffini con materiali sopraffini ci sta che poi dopo insomma piano piano torni a perdere a non essere così preciso come ora un ottimo risultato per un orologio entry level di questo prezzo sì infine ti mostro questo Glycine Combat Sub 39 mm in PVD trattamento PVD nero non è un trattamento che io amo particolarmente però ritengo che questo orologio sia fatto molto bene e il trattamento sia di veramente buona qualità oltretutto mi piace molto il contrasto il colore tra gli indici e appunto il a parte quella paletta lì che c'ha sulla sfera delle ore quel tondone vuoto lì non farci anzi niente fammi anzi una bella una bella sfera matite dritta così sembra una sfera mercedes incompleta ci sono dimenticati di farci il segnetto e vabbè mandiamolo un giro così un po' paletta carabinieri il nero della ghiera e del bracciale è tutto spero che la mia collezione entry level sia piaciuta buona serata e auguri a tutti auguri ancora auguri buona Pasqua e niente mi è piaciuta sì tutti i orologi altri level ma tutti scelti con cognizione di causa sapendo quello a cui andavo incontro fatti regolare perché se no se ammatti se sballa di 10 secondi l'orologio non va bene quindi ad esempio il mio Oris Diver 65 fa più 12 ma non lo faccio mica regolare ma cosa mi interessa fa più 12 più 12 anzi il trucco è quale quando devo mettere l'orario lo voglio mettere invece di metterlo preciso allo zero allo scatto lo faccio ritardare di 12 così piano piano è meno mi compensa il vantaggio in avanti poi li cambio così spesso perché non me ne accorgo nemmeno per me va bene comunque sei promosso dai non ti preoccupare sei stato promosso prossimo video ciao davide ciao saluto a te tutti gli amici del canale sono Alessio da Roma Alessio ricordatevi di me per la storia del Cartier Santos con il movimento con il movimento miota ma oggi sono qui per farvi vedere lo stato della mia collezione bravo iniziando dall'unico vintage praticamente questo Seiko Baby Monaco anni 70 come suggerisce chiaramente il design il bellissimo design di questo pezzo con questa cassa tv molto bello particolare sicuramente poco visto mi piace tanto poi proseguendo con un neo vintage che sono due pezzi vecchi che ho che è questo Oris carino è un Oris pointer date di cui non sono una referenza mi piacciono tanto le sfere con gli accenti rossi infatti cercavo un cinturino con delle impunture rosse da abbinarci ma purtroppo il lag è 19 mm è stato difficilissimo trovare anche solo questo fatelo fare da notare che è particolare perché questo è un 37 mm forse un po' piccolino diciamo sul versante piccolo dei diametri da notare che la lancetta pointer date va in senso anti-orario è una particolarità un orologio prodotto verso la fine degli anni degli anni 90 non si trova molto online si trova molto poco ce n'è anche la versione COSC bello mi piace tanto poi in ordine di acquisizione che abbiamo un classicone il mio daily driver che è questo seiko alpinist chiamato shark tit se non sbaglio molto bello comunque mi piace tantissimo lo uso praticamente quotidianamente ed è gran bell'orologio il mio muletto molto solido al tempo stesso elegante sportivo elegante gran pezzo per quanto per quel che costa è un po' tutto dai poi cosa troviamo abbiamo questo Hamilton ah performer jazz master performer crono un orologio che ho preso più che altro per curiosità è fatto molto molto bene finitura di di livello movimento molto molto preciso purtroppo per me è un po' grande addirittura anche il cintorino avrebbe bisogno di un altro buco per addirittura il mio polso io c'è un polso da 16 e mezzo poi questo è 42 abbastanza abbastanza tic abbastanza spesso e quindi niente penso lo venderò poi questo oris big crown bello point of date ok top tieni in bronzo full bronze questo quadrante è già virato borgogna vinaccia non saprei come definirlo è bordeaux ecco è che è un orologio che adoro ha tutte le caratteristiche che mi fanno impazzire cassa da 40 mm full bronze anche con un accenno diciamo come vedete di di ossidazione molto molto bello molto bello sì il bracciale che era strema brava oris un pezzo che un pezzo che indosso sempre con molto piacere e questo è tutto vi saluto te tutti gli amici della community al prossimo update della mia al prossimo della mia raccolta del mio percorso un caro saluto continuo così ciao 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 dai niente c'è poco da dire quell'oris neo vintage strano mai visto e poi quest'ultimo qua il big crown come questo qua in bronzo però con il bracciale che io dico sempre che magari il bracciale visivamente può essere un pochino pesante in realtà a vederlo così stava anche bene cioè era anche ora bisognava vederlo anche dal vivo come stanno quotidianamente perché perché siamo abituati a pensare al bronzo quando è nuovo è tipo color rame è veramente acceso quasi fastidioso qua in questo caso era già cominciata la bronzatura si era scurito e il bracciale in bronzo non stava mica poi così male non era mica poi così pesante a vedersi tutto sommato anche se devo dire che con il centurino così in squalo fa la sua porchissima figura comunque è bravo promosso questo qua era l'amico che aveva mandato il cartier santo con dentro il mio otta se vi ricordate è lui va bene grazie per averci mandato la tua collezioncina prossimo video buonasera Davide bel canale top io sono Marco da Abruzzo e vado a presentarti molto velocemente la mia collezione di orologi iniziamo subito da un sector ADV 4005 mamma mia presentato e pubblicizzato da Patrick de Gaillardon molto bello molto bello massiccio che dire di più fa cacare come io amo portare un solo orologio che mi dia piena soddisfazione questo qua è matto ho preferito investire in un unico pezzo in un Rolex 12610 NE con il nuovo calibro 32-35 penso che lo sfrutterò a dovere si riguadagnerà ogni soldo speso speriamo grazie buona serata che tipo strano sto qua vabbè già dalla parlantina non è che mi sembrava tanto no vabbè comunque va bene uno l'ho buttato il sector l'ha lanciato per terra e l'ho buttata anche evitabile questa e poi ci ha fatto vedere un Rolex Submarion che poi l'ha buttato lì anche quello sul morbido ma l'ha buttato lì un po' schizofrenato un po' un pochino va bene grazie per averci mandato il video di un minuto io dico di farli corti ma insomma non esageriamo un minuto così va bene lo teniamo non so cosa dire ragazzi finisco qua perché sennò dopo mi altero e posso anche straparlare vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video quest'ultimo qua magari no vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love ciao ciao Grazie a tutti.